Screening gratuiti e consulenze a Torre dei Passeri, un weekend all'insegna della prevenzione e della salute femminile. Torre in Rosa, appunto. Menopausa, diete, visite ginecologiche e senologiche. Siamo alla seconda edizione e nell'ambito del mese della prevenzione sulla donna abbiamo ideato questa due giorni chiamata Torre in Rosa. Un weekend aperto venerdì scorso dal convegno Conoscere la menopausa nella sala consigliare del Comune. Con l'ausilio e la collaborazione straordinaria di Omnibus Salute e del suo fondatore, il dottor Stefano Volpe, Torrese, con le sue lodevoli professionalità all'interno di Omnibus Salute abbiamo parlato di menopausa e nelle varie sfaccettature. In piazza 6 aprile 2006, davanti al municipio, sabato e domenica, coordinati dal dottor Stefano Volpe, fondatore di Omnibus Salute, due camper attrezzati con specialisti che hanno risposto a domande e dissipato dubbi. Due camper mobili, due cliniche a tutti gli effetti con dei professionisti e sette screening da poter fare in maniera gratuita. Gratuite le viste diabetologiche, controlli ginecologici con pub test, viste endocrinologiche con ecografia dell'ateroide, esami cardiologici con elettroencefalogramma, ecografia color doppler venoso, consulenze nutrizionali e colloqui psicologici. Vogliamo mostrare la nostra sensibilità a questo messaggio importante, quindi la prevenzione sulle patologie oncologiche che colpiscono le donne, che purtroppo sono tantissime. In piazza anche l'autoemoteca dell'Avis Comunale, coordinata da Antonio Di Benedetto, per una raccolta straordinaria di sangue. Grazie. Grazie. Grazie.